Sette diaconi permanenti sono stati ordinati domenica dal Cardinale Zuppi durante la celebrazione eucaristica in cattedrale. Era presente alla celebrazione anche l'Arcivescovo di Potenza, Monsignor Salvatore Ligorio, cugino di uno dei candidati, che ricordava proprio in questi giorni il doppio giubileo dei 25 anni di episcopato e 50 di sacerdozio. Il servizio dei canti liturgici è stato curato da un coro composto da membri delle comunità di provenienza dei diaconi. L'Arcivescovo ha rivolto agli ordinandi la sua esortazione a unire il servizio liturgico alla carità. Vivete e servite il verbo, questo verbo che ci libera dal male, che sarà sempre il pieno compimento della legge di Dio che è l'amore, la verità che è Cristo. Servitelo non solo sull'altare, su quell'altro altare che sono i poveri, il prossimo. Non divideteli mai e non accettate che lo spirituale sia lontano dalla vita e che la vita sia lontana dallo spirituale. Curate il verbum che è deposto sulla mensa, ma curate anche la parola che si fa carne. servite il fratello più piccolo di Gesù e la parola che si fa amicizia con tutti, pane di amore per una folla che ne ha fame, che cerca la luce dell'amore. I nuovi diaconi sono Ibrahim Elmi, nato in Egitto nel 1982, vive in Italia da 14 anni, è sposato con Claudia Abate e ha tre figlie, ha conseguito il baccalaureato in filosofia in Egitto e la laurea magistrale in scienze religiose in Italia, insegna religione al liceo scientifico, vive il suo ministero nella parrocchia di San Lorenzo di Budrio e fa parte del terzo ordine francescano secolare. Francesco Paolo Monaco, 58 anni, sposato con Anna Maria, ha una figlia, sono stati per anni una famiglia affidataria che accoglieva minori, frequenta la parrocchia di Santa Maria della Carità, dove è accolito, insegna religione al liceo, ha la licenza in missiologia all'urbaniana, dove sta conseguendo un dottorato in teologia delle religioni. Stefano Magli, della parrocchia di Pieve di Cento, classe 1966, sposato con Amanzia Campanini, ha tre figli, è consulente creditizio, insegna religione alle superiori, accolito, collabora in parrocchia, nella liturgia e all'ospedale di Cento. Francesco Piccoli, è nato a Taranto nel 68, è sposato con Lucia Notaricola e ha una figlia, trasferitosi a Bologna, ha conseguito il magisterio in scienze religiose, vive e opera nella parrocchia di Marzabotto, frequenta un gruppo di rinnovamento nello spirito, insegna religione nella scuola primaria. Maurizio Roffi, nato nel 57, è sposato con Donatella Ballarini e ha due figli, viene presentato dalla comunità della missione di Don Bosco, di cui fa parte, svolge il proprio ministero nella parrocchia di Vado, dove la CMB gestisce oratorio e pastorale giovanile. Ugo Sachs, classe 57 della parrocchia di Madonna del Lavoro, è sposato con Maria Teresa Bagnacavalli e ha quattro figli, è titolare di un'agenzia di commercio internazionale e ha le lauree in storia moderna e in scienze religiose, fa parte del movimento dei Focolari. Lorenzo Venturi, 53 anni, coniugato con Micaela Ventura, ha tre figli, perito tecnico, è operatore d'esercizio della TIPER, svolge il ministero nella parrocchia della Ponticella e fa parte dell'ordine francescano secolare. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi, ha manifestato la sua salvezza.